dimmi che mi vuoi bene perché non qua lungo 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 fermate che la scorreggia è come la musica jazz piace solo a chi la fa è vero quindi tu mi stai dicendo che salire su con le macchine fino in cima ti permette di fare una madonnina in più una discesa in più questo il controsole così sto meglio chuck 2 quindi tu eugenio mi stai dicendo dovrei dire tutto il copione di prima se no eugenio quindi tu mi stai dicendo che portare le macchine su portare le macchine ho spaccato il casco ti permette di fare due madonne no madonna in senso di bestemmia due sentieri madonnina maggiornina trail ti permette di farlo due volte senza fare tutta la salita dal convento fino a qui ah sì siamo all'argentario non avevamo detto ho dimenticato di dire guardate che panorama ma guardate che panorama di un uomo che ha bucato subito dopo i primi 50 metri ha bucato ma ha rotto anche un cerchio oggi è iniziata male ma finirà bene quello già sei andato no è un altro cane quel ha detto che era un bracco si vede il fango madonna vetro bagnato la palude andate fai te che ti riprendo guarda avanti dimmi che mi vuoi bene ragazzi state guardando sauron in action sauron man questo lungo ma che scivolo so butta dentro stabili nel secondo tronco credito con la spalla lungo 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 scopato sia andato E' un'altra parte. levamo se sto dente Che ragazza! Questa parte finale! Questa parte finale! Eccoci qua che risaliamo su per andare a fare la madonnina una seconda volta. Sono tutta sudata. Fa caldo, fa caldo! Ora ci mangiamo un bel panino cozze ricotta e proseguiamo la nostra meravigliosa avventura. Occhio che c'era il fago qua! Eccolo! Ah! Che brutto! Guardalo come va! Piano! Mi è impazzito Eugenio! Mi è impazzito Eugenio! Oh! Come te la sei rischiata! Oh! Ok! C'era un'altra parte! Oh! Oh! Ok! Lo so che avete sbagliato! Lo so che avete sbagliato! E' la stessa linea di bimba mai fatto! E' la stessa linea di bimba mai fatto! E' la stessa linea di bimba mai fatto! Prutto cosa più salta. Brutto? Ah! Eee! Ma non mi piace il terreno! Mi piace il terreno si! Quanto anchiodi ragazzo mio! Enchiodi proprio all'ultimo! no rosicato che rischio ringrazia la ruota che stai freni ma che stai freni e domandò guidando così male come cazzo si fa andare così forte solo lui ci riesce molto meglio molto meglio perché i miei freni si sentono ma frenate pure voi si ha toccato? ho sentito come una pedalata brutto ho due ho, non vedo male arriva piano che cazzo sono venuto qua per passeggiare poi guarda questo dice che è davvero da piano è un bel penorama si sta molto bene fa caldissimo se siamo fatti la madonnina due volte però siamo andati su con la macchina la prima che non è bike, macchina si stavo andando dritto io è umido è bello umido se siete mazza quanto è fracido è umido dico se siente? se siente? eccolo che so ste piume che terra hanno sparato questi cacciatori che peggio è passato è bello viscidino è un tesento che pare un tesento è viscito e vabbè tanto perché non qua? perché? perché? vabbè stiamo a chi appazzato è che il cazzo te lo ricordava tu l'hai fatto di là però un po' rimbarzato anche un pochino più piano grazie che fatti sopra la mia piazza oddio mio no daniele is on fire sì sì bello sto pezzo bellissimo bravo oh 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 dai sta è già la tua mattina vabbè 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 ma chi cazzo sei? chi cazzo sono? dai genio dai dentro dentro è davvero uguale non c'è no piccio guarda come vado quiettani se siamo ammazzati figli ok suale ooh c'è ha føsala oh 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 eh oh 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 ah 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 ah